Federico Giampaolo torna in Abruzzo ad allenare l'Avezzano, una grande responsabilità per allenare e guidare una squadra che punta, punterebbe a vincere il campionato. Ma sì, stimolante sicuramente perché sono arrivato praticamente stamattina, ho fatto un allenamento, poi c'è stata questa amichevole di lusso contro il Pescara, mi è servito per vedere un po' le caratteristiche dei giocatori, sono molto contento perché io praticamente non ci ho messo niente di mio, però ho visto la squadra che aveva il piglio giusto, aveva la giusta determinazione, per cui le basi per fare bene ci sono. Cosa ti ha convinto ad accettare le proposte e la richiesta dell'Avezzano? C'era questo ballottaggio che si portava avanti da una settimana, poi quando il Presidente aveva deciso di prendere Aiello non ci speravo più, invece poi mi è arrivata la chiamata ieri nel pomeriggio e ho accettato perché la passione è quella di allenare sinceramente, per cui anche se devi fare dei sacrifici, però il nostro lavoro è così, ci buttiamo in questa avventura sperando che le cose possano andare bene. Avrei a che fare con un Presidente passionale, vulcanico? Ma secondo me è meglio i Presidenti passionali che hanno giustamente a cara la squadra che i Presidenti che sono un po' passivi. Devo dire che mi sono trovato bene a pelle, poi bisogna vedere in futuro com'è, però l'importante è che si remi tutti nella stessa direzione perché la squadra ha avuto dei momenti di instabilità pesante. Per il bene dell'Avezzano dobbiamo fare questo, poi ci proviamo, speriamo che le cose vanno bene. L'ultima è un ritorno in Abruzzo che volevi fortemente. Beh sì, io sono abruzzese, per cui tornare a casa ogni tanto alle origini fa sempre piacere. Sono molto entusiasta, molto contento di questa esperienza, ripeto, speriamo che ci possiamo togliere delle soddisfazioni.